Allora wiki amici, Plasma Gamer ci ha chiesto perché si dice ok? Nonostante sia una parola utilizzata praticamente in tutto il mondo, non si sa esattamente la sua origine. Ecco alcune possibilità. Dal greco, hola cala, che significa tutto bene. Dai militari americani che contavano zero morti durante la guerra come all killer, quindi ok. Dal latino, ok est, ovvero è così, molto usato come assenso nell'impero romano. Dall'antico provenzare ok, che significa sì. Il termine ok si è diffuso in Italia dopo il 1943, ovvero dopo che le truppe statunitensi sono sbarcate in Sicilia. Ok ragazzi, questa non era una vera e propria polirematica della lingua italiana, ma è stata un argomento molto interessante e quindi l'abbiamo fatto comunque. Mi raccomando scriveteci con l'hashtag perché si dice se ne volete uno personalizzato nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Aloha! Ciao!